Ciao a tutti, voglio fare una serie di video sul no contact per spiegarlo bene. In questo primo video voglio parlare di quando utilizzare il no contact. Allora, il no contact sappiamo che è il non contatto, il non contatto totale. Poi cercherò anche di approfondire bene questo concetto. Non contatto significa che non dobbiamo comunque cercare quella persona, non dobbiamo rispondere ai suoi messaggi, non dobbiamo andare a vedere i suoi stati Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter o quello che è. Insomma, dobbiamo disinteressarci completamente di questa persona per almeno 21 giorni. Prima dei 21 giorni diciamo che possiamo rispondere alla quarta chiamata, volendo se lui o lei continua a chiamare, alla quarta chiamata possiamo rispondere, ma mettere dei vincoli. Se chiama prima dei tre giorni possiamo rispondere a mettere dei vincoli, altrimenti dobbiamo aspettare che richiami dopo i 21 giorni mettendo dei vincoli. Ma quando serve il no contact? Questo video è centrato su quando serve il no contact. Allora, il no contact serve quando una persona si allontana da noi, oppure quando una persona non soddisfa le nostre esigenze. Non ci deve essere però rabbia, quindi non dobbiamo tirare troppo la corda, non dobbiamo neanche fare dei ricatti tra virgolette logici, se non fai questo non ti cerco più, perché la persona se gli facciamo un ricatto logico mette un blocco emotivo e la parte logica si difende, si innesca un meccanismo difensivo. Quindi il no contact va fatto esclusivamente da un punto di vista analogico. Io non ti chiamo più, non ti rispondo e non ti dico neanche perché lo faccio. Sparisco, sparisco, sparisco completamente. Lui potrà pensare, o lei potrà pensare quello che vuole, potrà pensare che sono incazzato, potrà pensare che ho trovato un'altra persona, potrà pensare qualunque cosa. Questo ha due effetti fondamentalmente positivi, che dà emozione. Dà emozione all'altra persona perché gli somministrano rifiuti e abbandono e anche semino dubbi, il dubbio seduce molto. Quindi questi sono i tre motivi fondamentali per cui genero emozioni. In più, io tendo a sganciarmi perché queste emozioni, abbandono, rifiuto, me le somministro anch'io, ma me le somministro deliberatamente perché sono io che decido di fare il no contact. E quindi che succede? Succede che somministrandomele deliberatamente, la mia parte emotiva si coinvolge con la parte logica, che è quella che gli somministra le emozioni. E quindi da questo connubio, diciamo così, nascono nuove possibilità. Inizio a sentirmi meglio, la parte emotiva non mette più il bastone tra le ruote e si innescano tutta una serie di meccanismi positivi che mi portano a decoinvolgermi con questa persona verso la quale faccio il no contact. E quando siamo decoinvolti, ovviamente, possiamo fare tutto, perché è quello che dico sempre. Se noi riuscissimo a comportarci con le persone che ci interessano, come ci comportiamo con quelle che non ci interessano, le avremmo già sedotte. E quindi un buon decoinvolgimento mi permette, verdi praterie, insomma, di fare di tutto veramente. Quindi è fondamentale. Quindi il no contact comunque serve, quando siamo stati lasciati, serve meglio farlo un po' prima, però, farlo un po' prima. Quando siamo stati lasciati vuol dire che non lo cerchiamo fondamentalmente. Però è positivo, perché dice, cazzo, stai dieci anni assieme, lo lascio, manco mi cerca per un secondo. Oppure quando la persona non fa quello che vogliamo, magari perché è sposata, magari perché c'è altre cose, quindi ci distacchiamo completamente. Fondamentale. Bene, lasciate i vostri commenti qua sotto, iscrivetevi al canale, mettete un like e condividetelo con i vostri amici. Ciao!